Buonasera e bentornati a Telegram. Questa sera parliamo di lavoro, lo facciamo riferito alla città di Firenze, parleremo di lavoro e di tutto ciò che è connesso al lavoro, ai cantieri e allo sviluppo di una città che è quella di Firenze. Ne parleremo con un rappresentante sindacale, Bernardo Marasco, della segreteria della CGL. Buonasera e bentornati. Buonasera. Allora, come hai detto, sono tanti i temi, però diciamo che è un periodo elettorale, quindi ovviamente ci si avvicinò a una tornata che coinvolge il capoluogo della nostra regione, Firenze. in cui si sfidano diverse visioni della città. Mi è capitato di parlare con Confindustria e con gli imprenditori e la domanda più o meno è la stessa. Dal vostro punto di vista, che cose i sindacati oggi si chiedono a chiunque dovesse vincere l'elezione a Firenze, chiunque sarà il prossimo sindaco? Immagino ci siano delle linee guida da cui non si può procedere al di là del colore politico. Sì, diciamo che un primo tema, entrando nel centro del modello di sviluppo fiorentino, sicuramente per noi è il contrasto al lavoro povero. Lavoro povero vuol dire part time involontario, vuol dire tutti quei lavori che i cittadini fiorentini svolgono e che non sono sufficienti, diciamo, a includerli socialmente. Ormai è un fenomeno drammaticamente... Si lavora ma siamo poveri. Si lavora ma siamo poveri. Dove ovviamente siamo poveri significa poi una difficoltà sempre crescente di inserimento e di possibilità di integrazione nel contesto sociale. Questo significa, questo capita, può capitare nel turismo, nel commercio, capita nelle pulizie, capita, diciamo, gran parte nel mondo degli appalti. Quindi il tema di fondo, a nostro avviso, è come qualificare il lavoro. La direi così, noi dobbiamo favorire tutti gli investimenti che qualificano le condizioni di lavoro, qualificano, diciamo, anche il saper fare del territorio, qualificano ovviamente come si produce. Ovviamente qualificare come si produce significa qualificare come si lavora e questo è il connubio che deve tenere, diciamo, deve essere tenuto al centro del modello di sviluppo. Tutto ciò che è un lavoro povero, che ovviamente non produce integrazione sociale alla fine, dequalifica l'intero sistema fiorentino. Quindi uno degli elementi di base è come noi contrastiamo nel fenomeno degli appalti, nel fenomeno delle false partite IVA, nel fenomeno, diciamo, in generale della precarietà, se così lo vogliamo chiamare, un elemento che contrasta questo elemento di disgregazione anche della qualità produttiva. Senta, questo come si fa? Perché poi sappiamo, insomma, gli enti locali, diciamo, il codice delle appalti è qualcosa, come dire, che compete al governo, tra l'altro, insomma, c'è proprio ora la revisione, diciamo, del codice delle appalti, la nuova proposta sul nuovo codice, magari ne parleremo, perché ci sono dei cavilli, insomma, che in qualche modo hanno fatto discutere, anche la CGL, però, insomma, l'ente locale ha dei dispositivi, ha delle possibilità che sono limitate, ma qualcuna c'è. Spesso e volentieri, quando si parla di queste cose, il dubbio, la domanda è premiare i virtuosi o colpire, come dire, chi invece non fa le cose a dovere? Le due cose stanno insieme, devono stare in equilibrio? Le due cose stanno insieme, per forza. Allora, diciamo, intanto, che strumenti ha un'amministrazione comunale? Intanto è un ente che fa appalti, quindi è una delle cose che si può fare, come è stato fatto in alcuni comuni e come cercheremo di fare in tutti, compreso anche Firenze, è quello di darsi delle linee guida nei propri appalti. Nelle linee guida vuol dire che si applica nei propri appalti il contratto nazionale rappresentativo di quel lavoro e non se ne va a cercare una doc per spendere meno, quindi non si concorre sul prezzo, vuol dire che se c'è un cambio d'appalto le persone non perdono ore, ma passano all'altro appalto senza essere o licenziate o perdendo ore, e sostanzialmente si fa chiedendo garanzie sulla sicurezza e sulla legalità, diciamo, degli appalti stessi. Ovviamente è un tema molto complesso, ma intanto l'ente che fa l'appalto può sicuramente fare questo. E non è poco, perché ovviamente gli appalti di ogni amministrazione comunale o della città metropolitana o della regione sono una parte significativa. Se ci aggiungiamo gli appalti che riguardano le controllate pubbliche e le partecipate, è evidente che siamo di fronte a una fetta importante del lavoro che viene svolto. A questo si può aggiungere un lavoro probabilmente importante, per esempio, nel settore del turismo. Abbiamo un settore sempre più parcellizzato che produce ovviamente anche un ulteriore regresso delle condizioni di lavoro. Allora, renderlo meno parcellizzato, avere un turismo di maggiore qualità e quindi un'accoglienza di maggiore qualità, va di pari passo con la possibilità di avere un lavoro che qualifica quello che viene svolto. Quindi anche lì dei tavoli che possono essere costruiti di comune accordo tra la parte imprenditoriale e la parte sindacale per qualificare la ricezione turistica, per esempio, è un tema che potrebbe pervedere, secondo me, ottimi sviluppi dal punto di vista della discussione. Senta, com'è andata? Questo l'ho dovuto chiedere alla fine, ma visto che stiamo parlando adesso, come sono stati questi cinque anni di rapporto con l'amministrazione comunale? Poi, insomma, in questo caso allargherei almeno alla provincia, alla città metropolitana, visto che comunque il sindaco uscente Nardella era anche il sindaco della città metropolitana e spesso, come dire, le crisi aziendali non sono state soltanto nella città di Firenze, nel comune di Firenze, ma anche nelle città limitrofe. E soprattutto, insomma, se c'è stata anche quella parte di cui parlava lei ora, c'è la parte propositiva del sindacato, piuttosto che l'interpellarvi soltanto quando c'è una crisi da risolvere, diciamo così. Allora, sul territorio il rapporto tra le amministrazioni e il sindacato sulle crisi, sulla dimensione, diciamo, acuta, diciamo così, c'è sempre stata in realtà molto forte. Cioè, la risposta di questo territorio, devo dire, in ogni parte dell'area metropolitana, rispetto a crisi specifiche è sempre stata oggettivamente di attenzione. di attenzione, poi, come dire, non sempre le cose vanno come devono andare, però sicuramente, diciamo, non si può dire che ci sono elementi di sottovalutazione del tema delle crisi. Diciamo che il caso della Severs, no? Il caso della Severs, ma, insomma, di casi, dall'ultimo della Becker, cioè, oggettivamente ce n'è, purtroppo, ai meno, negli anni della crisi sono stati tanti e, diciamo, non si può ritenere che ci sia stata una sottovalutazione o, quantomeno, una non presenza delle istituzioni su questi temi. Quando abbiamo cominciato questa legislatura era molto ancora in voga la disintermediazione. Cioè, il ruolo dei corpi intermedi, cosiddetti, cioè delle parti sociali o comunque degli elementi che aggregano porzioni di società era ritenuto ancora un elemento di freno rispetto a un grande decisionismo che doveva evidentemente risolvere. Cioè, la concertazione era uno dei mostri da abbattere. Un monode mostri da abbattere perché evidentemente era sinonimo di una palude, diciamo, nelle scelte. Ovviamente quella non era una cultura che condividevamo, diciamo, perché ovviamente noi riteniamo che i processi democratici sono complessi e quindi per ovviamente le ragioni devono prevedere partecipazioni e soluzioni condivise. Anche dividendosi, ma insomma, però è evidente che non può essere ritenuto qualcuno che ha un'idea diversa o che ha una prerogativa collettiva, diciamo, un freno rispetto a delle decisioni individuali perché poi le decisioni individuali devono essere comunque applicate dalle persone in carne ed ossa e si ritorna, diciamo, al consenso che uno riesce a costruire nelle scelte. Quindi questa cosa all'inizio era molto forte. Direi che nel corso del tempo questa cultura si è oggettivamente sciolta anche perché mi sembra una campagna elettorale molto impregnata di civismo. Quindi quando si fa riferimento, come dire, alle forze attive di una città forse effettivamente le forze organizzate sono quelle anche attive. Quindi questa dimensione direi che negli ultimi anni ha prodotto in realtà accordi significativi appunto alcuni sul tema degli appalti, insomma, oggettivamente una partecipazione maggiore, un dialogo, il dialogo c'è sempre stato, ma insomma, un elemento propositivo appunto è anche di sviluppo di alcuni temi che può essere sempre incrementato, anzi ovviamente deve essere, io credo, incrementato, però sicuramente ha un taglio diciamo più partecipativo rispetto all'inizio della scorsa legislatura. Senta, parlando di Firenze non si può prescindere da un tema di cui lei si è occupato moltissimo e di cui si occupa tuttora con la delega a ciò che ha a che fare con le infrastrutture, i trasporti e la mobilità, non si può prescindere parlando di Firenze appunto dal tema mobilità, diciamo così, e infrastrutture e trasporti. Per due, tre questioni sostanzialmente, che una sta nell'ampliamento dello scalo di Peretola, dell'aeroporto, l'altra sta sulla TAV e le tramvie. Diciamo che forse sono tre sfumature, tre gradazioni diverse di essere riusciti a portare a termine delle opere, dalle tramvie all'aeroporto, che ancora diciamo su cui pende il ricorso al TAR, alla TAV invece che purtroppo è ferma e rappresenta una ferita aperta per la città di Firenze. Mi dice, voi avete fatto anche un convegno su questo, anche molto partecipato, partiamo dal tema della TAV, che forse è il tema più dirimente. Cosa chiedete sostanzialmente? Qual è la vostra posizione? Io partirei dall'obiettivo che vogliamo raggiungere. L'obiettivo che noi vogliamo, partirei quindi dal trasporto pubblico su rotaia. Allora, parto da questo ragionamento. Scandicci è sostanzialmente, la direi così, è diventato un quartiere di Firenze con la tramvie. Cioè, quello che Firenze non è in grado di fare dal punto di vista istituzionale, cioè l'area metropolitana, il trasporto pubblico su rotaia la crea di fatto. Peraltro producendo un elemento di distribuzione della rendita. Siccome Firenze vive fortemente il tema della concentrazione della rendita nel suo centro, l'espulsione dei funzioni nella cintura, con una dinamica ovviamente che produce centro e periferia, il fatto di avere un trasporto pubblico su rotaia che funziona davvero, in realtà ridistribuisce questi elementi, quindi ridistribuisce il rapporto tra centro e periferia. Sembra una banalità, ma in realtà è uno degli elementi sociali più rilevanti. Paradossalmente ormai l'urbanistica la si fa con i trasporti. Quindi questo è un tema di fondo. Allora, il trasporto pubblico su rotaia ha questa incredibile capacità di coesione di una città che tende invece ad andare su compartimenti stagno. Faccio una premessa, Firenze è una città che ha gestito meglio la crisi di altre perché è molto composita in termini di settori produttivi. Quindi se noi riusciamo a conservare questa poliedricità di Firenze, la più grande assicurazione della capacità di Firenze di competere. Più noi invece specializziamo settori sulla rendita, spegliamo distretti, eccetera, eccetera, più noi in realtà impoveriamo anche la capacità sinergica di Firenze di competere. Quindi, dicevo questo, il trasporto pubblico per rotaia ha questa caratteristica. Quindi noi cos'è che, da cosa partiamo? Partiamo dal fatto che la rete ferroviaria deve svolgere questa funzione di coesione. Quindi per noi la priorità è che da Pistoia a Firenze, da Empoli, e quindi vuol dire Siena, a Firenze, dal Valdarno a Firenze, dal Mugello a Firenze, ci deve essere un tren ogni 10-12 minuti, con fermate sostanzialmente di natura metropolitana perché questo di fatto porta con sé che su quelle direttrici ti hai costruito la città metropolitana. La tranvia serve ovviamente a connettere quei nodi che, non essendo sulla rete ferroviaria, riescono a completare un trasporto pubblico su rotaia che a questo punto è l'asse portante della città metropolitana. Ovviamente vuol dire Campi, vuol dire Bagnarripoli, Scandicci come è, cioè quelle direttrici che non sono sulla ferrovia diciamo, per le altre vale il treno metropolitano. Noi vogliamo, una delle proposte più importanti che abbiamo posto all'attenzione pubblica è noi vogliamo il treno metropolitano. E lì il discorso si fonde necessariamente con la questione della TAV, no? Sì, allora quindi la TAV, detto sinceramente, non è di per sé, come posso dire, un toteme, un tabù da realizzare. Il tema è che se noi vogliamo realizzare veramente un servizio metropolitano di queste proporzioni, c'è bisogno di avere i binari liberi e siccome tendenzialmente i grandi player tendono a occupare i binari per ovviamente servire l'alta velocità e quindi servire ovviamente le rine che sono utilizzate da cittadini e sono anche più remunerative, se noi non ampliamo la capacità dei binari, noi semplicemente continuiamo a sottrarre treni regionali e questa funzione si rientra asfittica invece di crescere. Quindi per fare questo abbiamo bisogno di più capacità. Un modo per realizzare una capacità adeguata, liberando almeno quattro binari di superficie, perché se voi entrate a Santa Maria Novella i binari centrali sono dedicati all'alta velocità, è quello di avere, uno dei modi è sicuramente quello di avere l'alta velocità. Dal nostro punto di vista, quindi il problema non è tanto che l'alta velocità è un totem che va realizzato perché noi siamo per le grandi opere, il tema è che noi siamo per un servizio ai cittadini. Se qualcuno ci spiega in quale altro modo, con la stessa frequenza, si può ottenere... Non è che ci si diverte a bucare la città. No, no, è chiarissimo. Noi però riteniamo che siccome questa roba è stata immaginata all'epoca così e quell'obiettivo va raggiunto, ritenere che oggi un'opera a metà fatta e la cui struttura si innesta esattamente in quel progetto non venga realizzata rischia di praticamente rimandare, di rendere impossibile quella funzione di nodo centrale che Firenze avrebbe rispetto al trasporto regionale e poi metropolitano. Quindi da questo punto di vista, ripeto, con grande laicità, quindi senza immaginare che sia un totem, anche se ci sono ovviamente dei lavoratori che ci lavorano, vorrei non fosse semplificata la nostra posizione. Non è che noi riteniamo che quell'opera vada conclusa perché comunque legittimamente ci sono persone che ci lavorano e che comunque un'opera è iniziata e che quindi dovrebbe vedere la fine, visto che c'è già un buco. Le battute infelici, quando si fa ironia come quella del cricket, dovrebbero essere rispettose anche dei lavoratori. Perché lì ci sono ditte appese a decisioni, poi non riguardano tanto il comune, in questo lo diciamo, riguardano soprattutto ferrovie, RFI che si deve occupare lì e che hanno proposto il project review, cioè di rivedere il progetto in base a quelle cubature commerciali che erano state pensate un tempo in cui oggi sarebbero inattuabili. Da qui poi l'idea della minifossa e tante altre idee, però la priorità secondo voi deve essere il creare la metropolitana di superficie come esiste a Parigi, come esiste a Berlino, insomma esiste in tante città europee, un treno a 10 minuti. Mi pare su questo anche l'ultima dichiarazione di la verità del sindaco Nardella sia stata noi all'incontro abbiamo chiesto questo, cioè l'importanza è quella lì sostanzialmente. Poi diteci voi cosa veniva a fare per il mostrando che quel buco a Firenze in qualche modo va chiuso, no? Certo, va chiuso, va trovata una funzione e la funzione ce l'ha. Poi la metratura commerciale, come farlo se è troppo dispendioso, francamente è un tema che a noi non ci riguarda, anzi noi non riteniamo molto utili incrementare spazi commerciali che tendono ovviamente poi a concentrare in singoli luoghi l'elemento e quindi a rendere anche la difficoltà della vendita al dettaglio. Quindi però sulla necessità che esista una stazione passante e che i binari di superficie siano liberi, francamente significa non dare ai cittadini quell'elemento di miglioramento della qualità della vita, della possibilità di spostarsi, di vivere in una situazione di ambiente sostenibile, perché ovviamente c'è un tema di abbassamento dello smog importantissimo, che francamente mi sembra un obiettivo prioritario. Tra l'altro, diciamolo anche così, la TAV, la zona della Foster, era stata pensata nel progetto delle tranvie, c'era anche un punto di incontro, una commissione, per cui si fanno i progetti integrati, perché possono funzionare insieme, se poi un tassello viene a mancare, insomma, questo va in qualche modo a ledere tutto il progetto. Allora, lì il progetto è cambiato 500 volte, ora fa una cosa, non entro nella storia, perché prima doveva essere a Belfiore più vicino, non entro in quello che, però sicuramente il fatto che siano Santa Maria Novella e la stazione Foster, siano sufficientemente vicine, soprattutto se come io penso sarebbe opportuno dotarle di un collegamento diretto, che sia un people mover, che sia, cioè un elemento di collegamento diretto, per avere nello stesso luogo sostanzialmente a pochissima distanza e quindi collegate con estrema facilità, sia la stazione di testa, sia la stazione passante. Questo fa sì che in realtà noi abbiamo un'unica grande, potremmo avere un'unica grande stazione, che consente di fare tutte le operazioni che sono quelle del rapporto di scambio con i treni regionali, con anche la tramvia, cioè di avere un unico sistema che su quell'asse ben collegata, che esiste tra le due stazioni, in realtà la fa essere un'unica stazione che vive dell'interscambio, tra l'altro se capisco bene nell'ultimo progetto, anche delle linee su gomma. Quindi, certo, se fosse stata fatta a Belfiore era più vicino, era più semplice. Le criticità ovviamente ci sono sempre, però dal punto di vista dell'obiettivo, perdere quella possibilità di stazione passante lì, francamente mette in difficoltà l'intero progetto complessivo, che ribadisco, è una priorità per la vita dei cittadini, per la vita dei pendolari, per andare a lavorare. Quando noi diciamo che le stesse aree industriali devono essere servite alla tramvia, il dibattito se la 4 deve arrivare sullo smannorio, il prolungamento della linea di Scandicci, sull'area industriale di Scandicci, non è che siccome la tramvia va di moda, non ci si diverte a dire, ci si vuole anche noi. È perché ovviamente le aree industriali che rischiano di essere dei luoghi immaginati come periferie, sono in realtà il posto dove la gente vive, dove la gente passa una gran parte della sua giornata. Allora, avere un sistema integrato che tenga insieme sul rapporto, sulla rotaia, questo tipo di ragionamento, è un elemento che rende, come tutti quelli che hanno visto funzionare la tramvia e se ne sono accorti, rende un miglioramento della qualità della vita, ma guardi in alcuni casi addirittura rende possibile in alcune aziende la gestione dell'orario flessibile, perché ovviamente andare in macchina significa entrare e uscire a una determinata ora. Avere un servizio di tramvia significa che la possibilità di gestire in maniera molto più funzionale l'orario in maniera più flessibile è data dal mezzo pubblico. Sì, diciamo che con la macchina si sa quando si sale, la macchina non sa quando non si esce. E poi se uno deve andare via non sa quando riparte, quindi a quell'ora va via. È assoluto che sia così, tra l'altro parlando dello smandone, magari dopo amplieremo il discorso su quella zona, effettivamente lì ci sono centinaia di migliaia di lavoratori che ci lavorano, decine di migliaia di lavoratori che ci lavorano e poi è una zona congestionata al traffico, è una zona di scerniera anche tra diversi comuni e quindi ha dei problemi anche di interazione sociale, di vita di quei luoghi e un impatto ambientale molto forte, è già una zona molto urbanizzata e con un traffico davvero molto forte, perché quello aspetto, insomma lo ha citato anche lei, poi delle ricadute ambientali positive del ferro sono innegabili, lo dicono i dati sulla tramvia e quindi anche solo per quello sarebbe un tema da perseguire. Ci fermiamo per 5 minuti, torneremo tra pochissimo con Bernardo Marasco, parleremo ancora di molto, ritorneremo sul tema degli appalti, parleremo ancora della città di Firenze perché insomma ci sono altri capitoli che riguardano le infrastrutture e non solo la nostra città, cercheremo di capire insieme quale deve essere la via da percorrere. Giusto 5 minuti e poi torniamo in studio. Restate con noi. Grazie. Ben tornati in studio. Allora stiamo parlando di sviluppo, stiamo parlando di lavoro, stiamo parlando di imprese con Bernardo Marasco della CGL di Firenze, abbiamo parlato di trasporti nella prima parte e diciamo abbiamo lasciato fuori, parlando di tramvia e tavola, abbiamo lasciato fuori il tema dell'aeroporto. Su questo diciamo così, partiamo anche da quelle che è un grande moto di piazza perché c'è stata una manifestazione contro l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, molto partecipata è molto grande, sintomo che le comunità locali non solo ancora sentono questo tema, fermo restando che l'iter procede, dopo l'ultima conferenza dei servizi è andato avanti, c'è ancora il ricorso al TAR che pende, però in molti la danno per assicurato ormai il fatto che si realizzi quell'opera. Mi dice la vostra posizione. Noi abbiamo espresso, dimostrazione che si può avere pareri articolati, diciamo anche sui temi delle grandi opere, un parere molto critico sul tema dell'ampliamento della pista, almeno nel progetto attuale. Ritorno al modello di sviluppo. Come diciamo il sistema di trasporto pubblico su rotaia tende a, come dicevo prima, a distribuire, diciamo a mischiare il tema del rapporto periferia, uno dei temi che noi abbiamo posti, il posto è se l'incremento della pista serve come ovvio a incrementare gli arrivi e quindi molti di questi sono ovviamente di natura turistica, un primo tema è esattamente questo. Firenze ha, in che modo Firenze ha bisogno di un ulteriore raddoppio dei turisti che arrivano e senza una politica complessiva e senza un ragionamento complessivo, in che modo, di qualificazione esattamente della capacità ricettiva eccetera eccetera, in che modo questa cosa è, come posso dire, così utile? La domanda è, cioè, quale modello di sviluppo propone? Perché noi abbiamo già ovviamente un tema, ormai un centro, mio padre quando va in centro dice non ci vengo più, io sono stati a stacci, non lo posso vedere così. Va bene? Abbiamo ovviamente un tema che non è colpa di nessuno in particolare, cioè è ovvio Firenze è un bene che tutti vogliono vedere e tutti arrivano, ma il tema è, noi lavoriamo per rendere questo elemento in cui il centro diventa lo struscio e con quindi un passaggio in interrotto, l'elemento su cui caratterizziamo Firenze o invece proviamo a articolare questa funzione? quindi concentriamo sempre di più la rendita nel centro, appunto, e spegliamo funzioni fuori, l'aeroporto ovviamente con la possibilità di far arrivare direttamente a Firenze un numero considerevole in più di persone produce una criticità di fatto, il fatto che questa discussione in realtà di fatto esista molto poco, a nostro avviso è molto preoccupante. Perché da Toscana i riporti le risponderebbero, però questo aeroporto è strategico diciamo anche molto per le imprese, per gli imprenditori, per chi deve far arrivare. Sì, ma io non voglio sottovalutare niente, non voglio fare una cosa a manichere, io dico che sicuramente c'è, la dico così scusate, un upper class che vola molto e che è una classe globale che sta anche in alcune funzioni delle imprese, non solo nei dirigenti che probabilmente si potrebbero organizzare in altra maniera, ma forse anche in un upper class che è molto legata sulle multinazionali, a lavori, diciamo, viaggia molto, sicuramente c'è un incremento di posti di lavoro in loco e sicuramente c'è un incremento di lavoro nella ricezione. Però che questa cosa sia così strategica da, per esempio, garantire infinite insediamenti di imprese industriali nell'area dello smannoro o invece magari l'area dello smannoro diventa ricettiva perché c'è o no e si svuota. Io questa discussione non l'ho vista fare a nessuno. Cioè la verità è che certo che c'è interesse del singolo manager di volare con più facilità, anche io se volassi tre volte a settimana è evidente che se mi fanno un aeroporto più grande ho un vantaggio, ma dal punto di vista del cittadino fiorentino, che tendenzialmente non è questo qui, cosa avviene della sua città? Allora, questo è un primo tema. Poi c'è un secondo tema all'Atele che è cosa ne è di quel territorio lì, cioè cosa urbanisticamente ne è di quell'area, che era un'area vocata a essere un parco, il famoso parco della Piana. Ci viene una pista, una striscia nel mezzo, c'è un tema di rapporto e collegamento tra lo smannoro e il sesto fiorentino, che ora ci si può arrivare domani da capire cosa si fa senza circunnavigare la pista, c'è un tema del parco della Piana, c'è un tema del futuro dello sviluppo del polo scientifico, cioè la sensazione è che noi ci troviamo di fronte a un'infrastruttura fortemente voluta da una proprietà, comprensibilmente e legittimamente, in cui invece di una pianificazione collettiva la politica ha litigato e semplicemente la pianificazione l'ha fatta Toscana Aeroporti. E quindi abbiamo un'infrastruttura che serve sicuramente a Toscana Aeroporti, ma il cui impatto sia urbanistico che sul modello di sviluppo non è stato oggetto di discussione davvero o di sintesi della politica, tant'è vero che non c'è una visione organica di cosa fare lì. Fermo l'estante, qualcosa su quella pista va fatto perché è una pista pericolosa, complicata. Certamente, è una pista complicata. Abbiamo sempre detto ovviamente che la messa in sicurezza della pista e dei lavoratori è una priorità, ma che questa cosa si trasformi in quel tipo di pista, in quella modalità lì, sostanzialmente, ripeto, costruita su una volontà, un disegno legittimo, ma di un privato, diciamo, a nostro avviso produce più problemi che risoluzioni. E questa cosa vale, cioè, questi temi sono in campo non per impedire che la pista sia fatta e basta, ma perché se qualcuno decidesse di farla, perché sono temi che vanno risolti davvero, cioè non è che noi li poniamo per, come dire, osteggiare, non solo per osteggiare una scelta che ci sembra, appunto, ricca di criticità, ma perché stiamo raccontando delle criticità che ci sono, quindi vanno comunque affrontate e prese sul serio. No, tra l'altro questo, il tema, diciamo, dello sviluppo, anche dal punto di vista dell'area fiorentina, è, secondo me, una delle sfide più importanti, che prima abbiamo parlato anche, diciamo, di quelle che saranno i capitoli che i candidati assinno, che il prossimo sindaco di Firenze dovrà, su cui dovrà mettere mano, la gestione dei flussi turistici per Firenze è una delle sfide cruciali, perché da una parte c'è un grosso rischio, al di là dei benefici, insomma, sono sotto gli occhi di tutti, c'è un grosso rischio di una città che diventa un parco giochi per turisti e si svuota anche di Fiorentina e questo poi provoca anche il perdere un'offerta peculiare e quindi poi anche in futuro magari una migliore attrattiva turistica, cioè nel senso, rischia di essere, come dire, il contraccolpo. Ti bruci, ti bruci. Rischia di essere un forte contraccolpo ed è un tema assolutamente importante. Senta, però, visto che qui mi piaceva affrontare anche, purtroppo dobbiamo affrontare anche un paio di crisi, di imprese, un paio di vertenze, Bagnolo e Cavalli, sono due vicende molto diverse. Partiamo da Cavalli. Allora, Cavalli è un marchio storico, come sappiamo bene, fortemente legato alla storia Fiorentina, in crisi da molto tempo, che ha fatto tante ristrutturazioni, alcune le ho gestite anch'io sicuramente dolorose. L'ultimo management, che aveva fatto una ulteriore ristrutturazione molto potente, si era dato cinque anni di tempo per recuperare il deficit. A metà di questo percorso, che ripeto è cominciato con una faticosa ristrutturazione potente, diciamo, si è trovato in una condizione in cui l'azionista ha detto stop, io i soldi non ce li metto più. E quindi siamo in una condizione paradossale, nel senso che questo marchio, che a questo punto, essendoci l'azionista che mette i quattrini, pur sapendo che era un marchio a rimessa per i primi anni, si trova in una condizione in cui ha chiesto sostanzialmente un concordato, cioè di provare ad andare avanti rinegoziando i debiti che ha. Qual è l'elemento veramente grave della vicenda? La vicenda è che se noi non diamo continuità al lavoro, non consentiamo comunque di far uscire le collezioni, di stare sul mercato, quello che rimane di cavalli, quando verrà venduto, perché chiaramente si sta cercando un acquirente, rischia di essere non la fabbrica attiva che sta a Firenze e che è la storia di Firenze, ma rischia di essere un marchio ormai depauperato di quello che, dei saperi dei lavoratori, delle collezioni che escono e ovviamente del suo rapporto specifico al territorio. Quindi se l'azionista non è in grado, insieme a questo management, di dare continuità anche in questa gestione complicata, rischia poi di mettere in vendita solamente il marchio. Quindi noi rischiamo non di perdere, come dire, l'occupazione di fare un'avvertenza normale, che è quella di come noi rilanciamo cavalli sul territorio, ma di perdere cavalli. Quindi se non si capisce qual è il rischio, si rischia di non capire nemmeno la gravità di cosa sta avvenendo. Cioè qui l'azionista non può immaginare di non garantire la continuità e la buona vendita, perché se pensa semplicemente di stappare, di rompere tutto, di vendere quel che gli resta dei pezzi per liberarsi di un problema, vuol dire che sta dicendo che Firenze, i lavoratori e quel marchio lì sono un problema per lui. Ma siccome non lo sono un problema per il mondo, anzi sono una risorsa, non può macchiarsi di questo crimine. Quindi lì purtroppo la vicenda sarà una vicenda non brevissima, perché ripeto, io penso che si debba svolgere un tema di rinnegoziazione del debito. Quindi qualche mese sicuramente, o per il concordato, o qualsiasi altra formula, e credo che chiunque si affaccia interessato al marchio sia anche interessato ovviamente una rinnegoziazione del debito per non farsi carico del problema. Ma il problema paradossalmente prima di arrivare a chi è l'offerente, qual è il progetto industriale dell'offerente, che cosa fa per mantenere su Firenze la sua capacità produttiva e il suo know-how e la sua vocazione, se noi arriviamo a quel momento con un'azienda che vive in vegeta o qualcuno l'ha soffocata nella culla prima, su questo sarebbe veramente inaccettabile. La battaglia è per mantenere la fabbrica aperta, l'azienda aperta e i prodotti sul mercato. Esatto, certo. Senta, la vicenda Bagnolo invece è molto diversa. Mi è capitato di parlare con il sindaco di Calenzano qualche tempo fa, anzi proprio poche ore dopo che era un po' esplosa la situazione della Bagnolo. Lì c'è anche un tema che ha a che fare con il sociale, con le persone che vi lavorano all'interno, con le storie delle persone che vi lavorano all'interno. È un caso di sfruttamento che riguarda il nostro territorio. Allora, la Bagnolo ha degli elementi emblematici, vorrei toccarne due. Il primo è il fatto che ci si trova davanti a dei lavoratori licenziati che sostanzialmente sono tutti lavoratori che nel perdere il lavoro, anzi nel perdere prima lo stipendio perché hanno arretrato gli stipendi, hanno subito perso l'alloggio. Perché essendo lavoratori immigrati nessuno ovviamente concede un secondo in più di ritardo a un salariato che è immigrato e quindi noi avevamo di fronte a quella fabbrica persone che stavano perdendo. Abbiamo perso, non venivano pagate, abbiamo perso il lavoro e abbiamo perso anche dove stare. Quanto erano a ventina? Erano 25 nel primo momento. Poi ovviamente se ne sono aggiunti altri perché altri si erano dispersi, ma diciamo quelli che sono venuti a piedi da Calenzano alla Camera del lavoro di sesto, perché a piedi erano uno era anche scalzo, erano persone che avevano perso la casa e il lavoro contemporaneamente, una botta sola. Quindi intanto è un elemento emblematico nel senso che richiama cosa ne è degli ultimi della società quando vanno sul lavoro e vengono sfruttati. Cioè il fatto di essere completamente senza qualsiasi paracadute sociale. E lì c'è stato ovviamente, proprio per la simbolicità di questo evento, una grande risposta della cittadinanza, gente ha portato i pasti gratis. Nel momento in cui noi facevamo il presidio di fonte alla fabbrica per far pagare questi lavoratori, per evitare che venissero portati via i macchinari e che qualcuno sparisse senza rendere conto, c'è stato un grande elemento di solidarietà. Quindi questo è un elemento simbolico, cioè chi alza la testa da una condizione di sfruttamento non è solo. Deve sapere che non è solo. Qualcuno cerca di costruire le condizioni per un suo futuro. Perché altrimenti si vive in una condizione in cui chi è ultimo, siccome è l'ultimo della fila e se perde il lavoro, la casa, è come dire, è solo e nessuno degli ultimi alza la testa. Invece intanto questo è un elemento simbolico importante. Punto numero due. Siamo di fronte a un fatto importante per quell'area. Cioè in quell'area sappiamo tutti che può essere annidato, probabilmente sempre meno, perché sono aumentati i controlli, sono aumentate anche i controlli da parte delle imprese, ma soprattutto da parte degli enti pubblici. Però esiste fortemente un tema di sfruttamento del lavoro in quell'area, molto potente, in alcuni casi molto grave, inaccettabile, che dequalifica il sistema delle imprese e sfrutta le persone in carne ed ossa. Quindi un vero tumore. Il fatto che ci siano ormai degli elementi, la dico così, di sfruttamento non entro la stessa comunità, ma tra comunità diverse, produce la possibilità di avere accesso a quel conflitto. Che prima c'era per il uso, perché ovviamente le stesse comunità coprono. Il fatto che ormai la mano d'opera venga cercata con comunità diverse, che parlano lingue diverse e quindi possono esprimere la legittima incavolatura se non vengono pagati, consente di costruire per la prima volta delle dialettiche sociali in quell'area. Questo è un elemento simbolico importantissimo, perché vuol dire che io credo che ce ne capiteranno ahimè degli altri. Però a un certo punto meglio che vengano fuori piuttosto che non vengano. Assolutamente, perché in questo caso i lavoratori, che pur hanno perso il posto di lavoro, sono stati pagati per gli stipendi arretrati. Alcuni di loro ovviamente hanno trovato attraverso la rete di solidarietà, accesso a soluzioni abitative, eccetera, eccetera. Cioè la comunità ha provato a farsi carico di un problema. E ribadisco, da domani i lavoratori in quelle aziende saranno sicuramente in condizioni meno precarie di quelle che hanno vissuto i lavoratori in Labagnolo. E poi ribadisco, un fatto simbolico, cioè che gli ultimi alzino la testa è la garanzia migliore per un territorio sano, attivo, in grado di reagire e competitivo. Se noi contiamo sul fatto che gli ultimi, come ai me, io credo che le scelte di questo governo implementino, che gli ultimi poi sono sempre più ultimi, sempre più soli e quindi sempre più soggetti a ricatto, significa che te hai costruito le condizioni per una competizione a ribasso, con lo sfruttamento, che l'è delle imprese di te corrette, eccetera, 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 che non ci serve esattamente il contrario. Ci serve che gli ultimi alzino la testa e siano accolti da chi ha qualcosa da dargli in maniera tale da evitare che sia un buco nero in cui ci finiamo tutti dentro. Assolutamente. Abbiamo avuto il nostro tempo, però insomma è stato molto interessante anche parlare di queste due ottenze, anche perché l'ultimo in particolare era particolarmente simbolico, magari torneremo anche a parlarne. Intanto io ringrazio Bernardo Marasco per essere stato con noi, grazie. Grazie. Grazie a tutti per averci seguito da casa. Telegram termina qui e noi ci vediamo alla prossima puntata. Buonasera.